Allora, voi siete uno dei serbi che ha fatto la piattaforma, un piccolo dedicato quest'anno, avete sottoscritto a fine 2017, avete sottoscritto questo quote per circa 130 milioni di euro in un compatto della sita gestita da GAM, dalla quale avete fatto concluire poi il ricavato della rifiliazione di alcune gestioni patrimoniali e di due partecipazioni. La quota quindi 130 milioni di euro è un terzo del totale attivo della Fondazione di Venezia. Quali sono stati i motivi che vi hanno portato a fare questa scelta e come si inserisce questo vostro investimento all'interno di tutta la locazione della fondazione? Allora, la decisione è maturata ragione del fatto che una fondazione di dimensioni medie, una fondazione di Venezia medio-piccole e con una struttura organizzativa fortemente orientata alla parte operativa dell'attività istituzionale, una struttura di questo tipo garantiva un modello organizzativo che era conto con le dimensioni della fondazione, non potendo costruire all'interno un sistema efficiente di risk management che avesse, senza spendere, come dire, soldi indirettamente quindi con il costo che diventava inefficiente e assolutamente non sostenibile dalla fondazione come si è preferito andare in outsourcing fondamentalmente. Ovviamente questo aspetto, avuto conto anche delle esperienze che avevamo maturato in precedenza, ha in qualche misura aumentato la consapevolezza sia della struttura della fondazione nei confronti dei processi di investimento ma anche, mi sento di dire, del consiglio di amministrazione, le fondazioni grandi ma anche quelle piccole vivono nella vicendarsi degli amministratori processi di continua necessità di rialfabetizzazione, consentitemi il termine, degli organi e quindi la possibilità di costruire una sorta di organismo intermedio, qual è il comitato investimenti che è ovviamente uno degli elementi fondamentali del modello organizzativo che prevede appunto l'utilizzo di queste piattaforme, avvicina moltissimo la consapevolezza finanziaria del consiglio di amministrazione dei suoi delegati mettendo le mani in corpore vivo sia nel processo di investimento ma soprattutto nella relazione con i gestori. Ovviamente gli altri aspetti positivi, vorrei dire, di sottolineare i miei colleghi, sono quelli evidenti, ovviamente l'aspetto del futuro, la possibilità di fare effettivamente nel risk management ha tenuto conto che si hanno in mano tutte le esposizioni, quindi si ha la possibilità di una visione molto approfondita di quello che c'è dentro le singole gestioni, c'è un aspetto di efficientamento fiscale che è altrettanto importante, basta per questo da regolagnare ovviamente perché quest'anno non è che l'abbiamo percepito in maniera particolarmente simpattuale, c'è ovviamente un altro aspetto che secondo me è altrettanto importante che è quello della possibilità di poter staccare un dividendo senza scassare ogni volta l'asset allocation, cosa che succede ovviamente se si possiedono strumenti separati o gestioni diciamo di tipo tradizionale. Poi ci sono anche degli elementi invece meno luminosi di cui magari parliamo a un secondo giro se vuoi ti dico già subito, ma direi che facciamo il secondo giro. Su quali fattori invece vi siete concentrati voi nell'analisi delle varie proposte che vi sono state sottoposte? Sì, noi abbiamo iniziato questo processo di fatto subito dopo aver avviato quello che è il percorso di diversificazione del patrimonio. e quindi direi che avendo iniziato il percorso di diversificazione tre anni fa abbiamo iniziato circa due anni e mezzo fa ad avviare tutta un'analisi per valutare la possibilità di ricorrere a questo tipo di soluzioni. Devo dire che siamo andati, abbiamo preso già molto tempo anche perché abbiamo fatto le analisi su diversi livelli. quindi innanzitutto abbiamo valutato se è opportuno far crescere la struttura diciamo interna oppure rivolgersi proprio ad una società esterna specializzata, ad un operatore qualificato. E ovviamente, dico ovviamente perché insomma il risultato magari poteva già sembrare scontato sull'inizio, in alcuni versi i risultati di analisi hanno portato proprio a questo tipo di soluzione. che è una soluzione effettivamente come ho mostrato tu Stefano poco fa, in qualche modo il mercato già da un po' di tempo sta cominciando a ottimizzare, soprattutto nel mondo anche delle fondazioni. E questo confermava un po' i risultati delle analisi che hanno fatto anche già internamente con supporto anche di un consulente. quindi quello che abbiamo fatto è per l'appunto individuare un consulente sia legale che fiscale che ci supportasse in questo percorso per individuare la soluzione comunque più adeguata a quelli che erano i desiderati della fondazione, gli strumenti su quali si investiva. e siamo arrivati per l'appunto individuare un panel di controparte alle quali abbiamo fatto una forma di, in qualche modo, di due diligence. Quindi siamo andati a verificare, come dicevi tu, alcuni fattori. Quindi vi riassumo brevemente ma innanzitutto la società. quindi al di là, diciamo, della solidità che è assolutamente messa in discussione avendo comunque individuato e invitato a partecipare società che bene o male offrivano già questo settore, questo servizio ad altre fondazioni o comunque ad altri clienti istituzionali ed erano sia società italiana che anche società estere. sul lato, diciamo, della società, quello che abbiamo visto chiaramente sono le asset d'admaggio e quindi asset di gestione, il track record dell'esperienza nella gestione di mandato di patrimoni, di istituzionali, dello specifico di esperienza con le fondazioni bancarie perché chiaramente anche questo settore ha delle peculiarità rispetto magari ad altri istituzionali piuttosto che le strutture, diciamo, le tipologie di investimenti quali le società di gestione sono soli di fare. Mi riferisco non solo a un tema di liquidità ma anche di asset class pensiamo a non solo fondi liquidi ma anche alternativi. E di poco adesso perché magari le società hanno bisogno anche di strutture di back office o middle office che siano specializzate nella gestione di determinati strumenti. un altro elemento, un po' come diceva domani poco fa, è tutto il tema del risk management che è un aspetto, diciamo, particolarmente importante anche perché molto spesso è, diciamo, un costo importante anche per avere la stessa struttura interna della fondazione che, peraltro, a livello di processo non dovrebbe nemmeno essere quella della gestione del patrimonio non è una questione di conflitto interesse, non dovrebbe essere una struttura esterna. E quindi da questo punto di vista c'è il tema di look-through, come diceva domani poco fa ma anche di far rientrare tutto, che sicuramente c'è una votazione che, anche loro, sull'interno di un processo strutturato che riguarda non solo il tema del risk management, dal punto di vista, se vogliamo, di elementi qualitativi piuttosto che quantitativi, ma anche penso al tema dell'Odit. Stiamo comunque lavorando con un operatore qualificato che ha su di sé tutta una serie di controlli che non solo quelli di risk management che riguardano la gestione ma anche quella di verifica dell'operazione che ha sull'Odit e, su un livello, diciamo, ancora più alto, quello di un organismo di vigilanza che vigila sull'operato dell'area del comparto, sia essendo sempre 10 sia tutta solitare. E quindi il tutto rientra all'interno del percorso comunque sia molto ben strutturato. Altro elemento è, ovviamente, questo, diciamo, un tema sicuramente che è stato dibattuto da tutte le fondazioni che hanno adottato questa soluzione, il tema della governance. E quindi è evidente che nel momento in cui si individua questa soluzione si cede qualcosa in termini di gestione, però, ovviamente, essendo, diciamo, un investitore che porta, di fatto, quello patrimonio, quindi quello che è stato e che rappresenta tuttora la fonte dalle quali avere, diciamo, i profitti da utilizzare per l'erogazione sul territorio, è ovvio che la fondazione ha bisogno di qualche presidio di governance, che non significa la gestione perché non può averla, ma significa comunque avere un presidio. ultimo, diciamo, elemento, ovviamente non trascurabile, è il tema, ovviamente, del costo. Quindi, da questo punto di vista, è evidente che ci sono diversi, diciamo, elementi di vantaggi che ha citato molte di queste ci sono anche due anni, questi rappresentano, ovviamente, un costo, però è evidente che anche su questo bisogna fare, diciamo, delle opportune valutazioni ed era, diciamo, un elemento che non abbiamo assolutamente verificato inizialmente perché inizialmente ci siamo, diciamo, concentrati su tutti gli altri aspetti quindi nel momento in cui abbiamo individuato, diciamo, una short list, ovviamente siamo entrati anche nel tema delle commissioni, dei costi relativi alla parte depositaria, piuttosto che al servizio di investimento. di questi, direi, sono principalmente i fattori che abbiamo analizzato. Grazie mille, Carlo. Carlo, voi con altre due fondazioni, quella di Liborio e di La Spezia, avete creato, diciamo, questo progetto di piattaforma fondazione che si va già a mancare, nel vostro caso, ad altri veicoli dedicati, ecco. Quali sono, diciamo, se ti soddisfatti? Sono emersi degli aspetti da celebrare meglio? Ci puoi dare già qualche tempo? Guarda, allora, innanzitutto direi questo, che il percorso è un percorso che è iniziato tempo fa, quindi il percorso che queste fondazioni hanno avviato già da diversi anni, ma tre anni e poco più in fondazione, quando sono arrivato era già iniziato questo percorso. Per quanto riguarda noi specificamente, noi siamo in una situazione, mi è piaciuta molto quella slide sulle percentuali, un po' particolare, perché siamo tra le grandi, ma abbiamo una percentuale di gestione esterna delle medie, no? Quindi questo è dovuto un po' proprio alla struttura del nostro patrimonio. Noi ancora oggi, diciamo così, abbiamo una partecipazione bancaria che in circoltenza del nostro patrimonio, che non è liquida al momento, e che aspettiamo, spusciamo, si riesca a rendere un po' più liquida nel futuro. Noi abbiamo l'altro terzo, che è rappresentato la Cdp, un decimo, il 10% è effettuato, dopodiché non è che è rimasto proprio un'enormità, ecco. Quindi un primo tema nostro riguardo a questo è anche la possibilità, sul futuro, di utilizzare, come dire, i comparti disponibili per, come dire, nel momento in cui alcuni di questi oggetti dovessero rendersi più liquidi o liquidabili. Quindi abbinizio un po' questa era la storia. La piattaforma ha richiesto oggettivamente un percorso impegnativo, su questo le tre fondazioni sono fatte assistere da Prometti in tutta la fase di selezione, quindi c'è stato anche un po' un dibattito all'inizio sul tema comparto verso spiattaforma, cioè andare direttamente su un comparto già incastonato nella piattaforma, ovvero costruire una propria piattaforma. Noi, diciamo, nelle mole della costruzione della piattaforma siamo partiti con un comparto in un altro veicolo per le nostre esigenze temporali. No, abbiamo bisogno comunque di gestire, di conferire alcuni asset che, diciamo così, richiedevano una gestione professionale molto, molto specializzata e da lì quindi siamo partiti. Oggi andiamo con questo comparto per effetto di diversi conferimenti circa 115 milioni. In contempo siamo partiti sull'altra parte della piattaforma, lì c'è stata un'evoluzione, io direi che oggi la piattaforma sta arrivando a una situazione che potremmo definire regime. Noi in questo momento abbiamo contribuito ancora in modo molto marginale, direi, ma abbiamo intenzione a questo punto di accelerare anche perché su questo comparto noi abbiamo deciso, come a livello di posizione di gestione, di dedicare l'intero comparto al tema i misi. Quindi per noi, come dire, il comparto di oggi è 20 milioni che, diciamo così, se va come deve andare raggiungerà 50 e 100 probabilmente nell'arco di 3 anni, sarà un comparto tutto il G. Poi ieri mi è piaciuto anche il dibattito su questo tema, no? Perché è chiaro che l'ottimo sarebbe avere un approccio olistico al tema ISG, ma siccome non è così semplice e molti pezzi di patrimonio sono vincolati, non possiamo, diciamo, movimentare liberamente, direi che intanto iniziamo a costruire un primo comparto e poi vediamo. Tutto questo io personalmente mi sto trovando molto bene da più punti di vista. Il vero tema, uno, è che abbiamo degli interlocutori professionali qualificati con un'infrastruttura di controllo importante che noi da soli non saremmo assolutamente in grado di costruire. L'altra cosa è che c'è una buona interlocuzione nel rispetto dei uomini, cioè comunque il gestore è il gestore e quindi in ultima analisi è il decisore delle scelte di investimento e disinvestimento, il che non esclude la possibilità di un'interlocuzione periodica che secondo me per le fondazioni è un passaggio anche culturale, anche rispetto a quello che diceva Gianni, interessante, no? Nel senso che le fondazioni hanno, come dire, stimoli, suggerimenti, eccetera, però una cosa è convogliare tutte queste, diciamo, lead opportunities in uno strumento, diciamo, qualificato e in un gestore qualificato. Altra cosa, magari delle volte, è fare degli interventi spot, no? Che magari, come dire, non sempre sono perfettamente, come dire, non si riescono del tutto, come dire, a un numero omogenea dell'asset allocation complessiva. Quindi questo un po' è il nostro punto di riferimento. Il messaggio è sì, va bene, stiamo andando avanti. Secondo me c'è sempre un problema di attenzione alla dimensione, no? Perché comunque quando si va in questa direzione bisogna sapere che, come dire, i costi possono essere anche molto convenienti, ma soprattutto se si raggiungono determinati studi. Diversamente potrebbe essere molto poco, come dire. Grazie mille Carlo. Passiamo adesso ad Andrea. Voi avete nel 2006 ci fatto confluire, nella montagna della gestione patrimoniale di questi, un vincolo dedicato alla fondazione. Con quale logica avete scelto di investire, perché con un vincolo dedicato, quali sono gli obiettivi, se è possibile o non è possibile raggiungere con un comparto dedicato di misura? Cioè quali sono, secondo te, quelli che si possono raggiungere? Certo. Molte delle considerazioni che i colleghi hanno fatto pochi stanti fa sono assolutamente condivisibili e hanno caratterizzato anche le scelte che sono state fatte dalla fondazione di Fugli. Mi concentro soprattutto, per dare un angolo un po' diverso, al percorso graduale con il quale la fondazione è arrivata a monturare questa scelta. È stato un percorso di circa due anni lungo due direttrici. Da un lato, l'evoluzione delle modalità degli strumenti di investimento, e dall'altro lato, l'evoluzione con cui la fondazione ha affrontato la governance del proprio comparto dell'investimento, e le quali hanno trovato la convergenza proprio nello strumento del fondo IUCIS su misura, più che dedicata la parola più giusta, su misura nel senso che è ritagliato e costruito in maniera tale da soddisfare le esigenze che la fondazione ha affrontato al proprio gestore. Quindi il primo asse di evoluzione, quello delle modalità degli strumenti, ha visto passare a un giro di due anni da una gestione 70-30, tradizionalissima, ha passata poi con un unico benchmark di mercato, ad un benchmark sempre più sofisticato, per poi scoprire che in situazioni di mercato di crescente difficoltà di lettura non soddisfava gli organi, non soddisfava gli obiettivi, e questa si è poi evoluta in una gestione absoluta attuale, quindi l'obiettivo di rendimento, che ha trovato la sua naturale casa proprio all'interno del fondo IUCIS per le sue caratteristiche. Il tema del rischio ben gestito, quindi tutte le coperture, rischio il tasso, rischio il cambio, avvengono all'interno di questo strumento. Il tema della liquidità è importantissimo, la Fondazione Forlì incassa più di metà dei suoi proventi, negli anni buoni, molto di più nel 2018, in una finestra di 6-7 settimane, però si liquida 12 mesi, quindi le erogazioni vanno liquidate, i flussi di cassa in entrata, quindi il fatto di poter pianificare come il gestore delle distribuzioni cellulari è evitato assolutamente. E questo è il percorso di evoluzione sul fronte dello strumento. Sul fronte della governance anche questo, anche qui l'evoluzione è stata particolarmente importante, perché è una fondazione che solo nominalmente è di grandi dimensioni e a partire da quest'anno, perché è il secondo anno che la Fondazione Forlì scala graduatoria, ma senza che vi siano balzi di patrimonio, assolutamente. La struttura è molto asciutta, è molto efficiente e quindi potersi affidare ad un team competente che ha aperto il mercato, perché nel momento in cui abbiamo adottato questa soluzione ci siamo trovati a poter accedere a oltre 30 soluzioni possibili di investimento su un vent'anni ancora più alto, questo ci ha permesso di incrementare la diversificazione, migliorare la gestione del rischio. Sul fronte poi sempre della governance, questo è stato accompagnato dalla scelta di operare con un advisor finanziario che ci segue in tutte le decisioni e che partecipa insieme al personale della Fondazione, all'investment committee del comparto su misura, anche questo è fondamentale perché è da qui che nascono le decisioni di accostamento del tiro quando necessario da questo tipo di interlocuzioni e da aver costituito eternamente alla Fondazione una commissione di investimenti fatta da persone interne e da persone esterne che interlocuisce con il gestore periodicamente. Il fatto che poi nel 2017 sono stati apportati dei cambiamenti, sia un po' ridotto alla quota di patrimonio allocato su questo strumento non è stato proprio motivo di insoddisfazione, quanto di nuovo per scelte di evoluti. Una BPS è stata quella di incrementare materialmente la diversificazione, introducendo elementi più lato gamma che lato beta e questo in quest'anno ha limitato i danni. Profetto. Giovanni, entriamo un po' più nel dettaglio del comparto della Sica, hai gestito con un approccio multi-assi, multi-strati, multi-verd, avete tre gestori differenti, ci racconti come siete arrivati a questa definizione della strategia e che valutazione dà già magari i risultati fino ad ottenuto, avete tre valutati differenti, se magari ci racconti tu. Sì, allora adesso in realtà i mandati si sono ridotti due e mi spiegherò adesso le ragioni. Siamo partiti con un assetto a tre mandati all'interno ovviamente di questo aspetto del fondo dedicato, uno era un mandato, come dire, a benchmark bilanciato e ancora un mandato benchmark bilanciato, uno è un total return e uno è liquid alternative. La parte liquid alternative adesso sta per essere riallocata anche perché era la stessa società che gestiva la managing company, quindi volevamo, come dire, creare della terzi età che in un primo momento non si era riusciti ad ottenere e sul piano dei risultati ovviamente è difficile in un anno come questo vedere il bicchiere davvero del tutto mezzo pieno. Di sicuro se comparata al mio principale asset banca intesa che ha perso il 30% nell'arco dell'anno, la mia gestione ha perso il 3%, sta perdendo il 3,5%, diciamo che non mi tiro le pacche sulle spalle, però almeno, diciamo, sul lato della protezione del capitale il comparto ha funzionato. È però di tutta evidenza che comparti di questo tipo si efficientano nella misura in cui, nel senso dei colleghi, la dimensione consente di in qualche misura digerire i costi, perché i costi possono essere in effetti anche ben concordati, la managing company costa, devo dire, piuttosto poco, le gestioni patrimoniali hanno delle commissioni relativamente moderate, dico relativamente perché poi nel sottostante compaiono quasi sempre fondi e quindi io, come dire, devo sommare le commissioni dei fondi quando non sono della stessa compagnia, dove magari qualche ribeta si riesce a fare e quindi poi alla fine con una dimensione di 130 milioni la dimensione di costo e di commissione ha lo suo peso. L'abbiamo visto anche ieri, il mercato degli investitori istituzionali si orienta verso i prodotti passivi, non lo fa solo per una questione ideologica, io personalmente lo farei, nel senso che sono convinto personalmente che ci dovrebbe essere passivi e l'antidoto al passivo siano tutta la parte alternativa liquida e illiquida. La parte absoluto territoriale mi è un po' meno, come dire, familiare, nel senso che la trovo difficilmente, ho trovato raramente dei gestori absoluto territoriale che fanno quel mestiere, perché poi bene o male, c'è sempre un benchmark da seguire, c'è sempre un mercato, io vedo Gran Beta e l'Alfa, lo sento raccontare nei prospetti informativi. Però detto questo, insomma, senza, come dire, il punto della dimensione è fondamentale anche per un altro aspetto, ovvero nel processo di selezione dei gestori dei mandati sottostanti, è evidente che con dimensioni relativamente piccole è piuttosto limitato il parterra dei gestori disponibili a venire a gestire un mandato di questo tipo. Questo è in effetti un bonus. Questa è una delle ragioni per le quali, tenuto conto del fatto che pensavamo di fare straccelli vendendo l'intesa San Paolo, che poi ovviamente non abbiamo fatto, e che avremmo incrementato il fondo ad una dimensione che rendesse efficiente tutto l'apparato, abbiamo capito che con due gestioni probabilmente siamo in grado di fare una selezione più ampia e quindi poter accedere a un mercato un po' più ampio nell'ambito delle soluzioni di investimento, mantenendo appunto una parte più direzionale, corretta con l'opportuna parte degli alternativi e in questo caso riuscire, come dire, ad avere un efficientamento anche in termini condizionali. L'altro aspetto che mi preme segnalare è che se è vero che questo è il modello che deve in qualche misura traghettare le fondazioni verso una soluzione di investimento professionale, va detto che in questa fase, che c'è ancora molto da, come dire, migliorare sul piano dell'efficientamento proprio dei modelli di funzionamento di queste piattaforme, non è vero che tutto entra all'interno di questi investimenti, cioè qui dentro c'è solo la parte liquida e spesse volte ci sono problemi di onboarding anche per fondi che potrebbero tranquillamente entrare. Cioè quando ci si sposta verso il private market, e non mi riferisco ovviamente all'impossibilità oggettiva di inserire il private equity, però già quando si parla di private equity, che è un tema che a me invece è molto caro e che personalmente considero il naturale succedano al mercato obbligazionario che francamente vorrei vedere poco rappresentato nel portafoglio anche perché è la garanzia di perdita di patrimonio nei prossimi esercizi o quantomeno di non redditività adeguata del patrimonio ma certezza di commissioni per i gestori, preferirei avere un comparto di private equity, magari liquido perché ne esistono, esiste un mercato molto ampio soprattutto negli Stati Uniti e con quella parte lì si fa ancora fatica a portarla a bordo. Ecco, al netto di tutto questo però al momento non mi pento e considero che con queste opportune variazioni il modello possa funzionare. Ovviamente, e lo devo dire ancora una volta, è un fatto di dimensioni, per cui fondazioni magari di piccole dimensioni, come ho sentito, o che hanno negli patrimoni che vogliono portare insieme questa soluzione di investimento e, come dire, coabitarvi, farlo perfettamente una scelta razionale. Ti faccio, siccome so che tra poco devi scappare che ho fatto torno alla barca. Sei buonissimo. Mi dici cosa avete intenzione di fare nel 2019 a livello di investimenti, a livello di diversa classe e qualche indicazione? Beh, il 2019 credo sarà un anno, come dire, di transizione dove staremo piuttosto a guardare, nel senso che le politiche di, come dire, efficientamento della piattaforma più o meno te le ho raccontate sul piano di Intesa San Paolo. Noi abbiamo, peraltro, un'autorizzazione a cedere a prezzi che attualmente non sono esattamente in linea con il mercato né a pronti né a termine e quindi temo che resteremo un altro annetto che abbiamo fatto per venticinque anni con la nostra partecipazione in Intesa San Paolo sempre che rimanga una partecipazione in Intesa San Paolo non diventi che so, una partecipazione in società generale senza che era nel mondo. Chiarissimo. Andrea, abbiamo parlato prima dell'obiettivo di rendimento del comparto dedicato che secondo me era circa l'intenzione italiana maggiorato del 2,5. Quindi, secondo te, una gestione di box è facilmente perseguibile per la nostra scala dedicata e come valutate anche voi i risultati finora ottenuti? Parlare di risultati, Stefano, dopo 11 mesi di disastro totale è sicuramente complicato. Però parliamo di strumento, quindi non parliamo di risultati e quindi la storia di questo comparto dedicato è di circa due anni e mezzo nei quali abbiamo cominciato a trarre qualche primo bilancio e il bilancio è, ripeto, al di là del rendimento attuale, è soddisfacente perché dal momento in cui la gestione ha iniziato a funzionare secondo il mandato di rendimento di obiettivo assoluto, la volatilità si è compresa, gli organi si sono anche molto tranquillizzati perché si è verificata quella modalità di conseguimento dei risultati che era esattamente complicata, per cui lo strumento è quello giusto. Il fatto poi che, come dicevo prima, sono state fatte ulteriori diversificazioni, è stato inserito anche un gestore alternativo per avere all'interno della fondazione un benchmark interno, non esprimono un'insoddisfazione né per lo strumento né per il gestore ma una volontà di avere una sempre maggiore diversificazione in tutto quello che facciamo. Lo strumento è perfetto? No, non ci sta tutto, lo diceva, preva tech, preva debt, non è il loro posto quello per metterli assolutamente, ma nemmeno è detto che l'evoluzione degli strumenti con cui la fondazione opera oggi sia terminata, ma non viene in questo periodo, in questo momento difficilissimo, per il 2019, grande punto interrogativo, grande attesa, mi allino a Giovanni, e non è detto che questo non debba riportare. Già che ci sei, se hai qualche indicazione su 2019, nuovi investimenti o… Allora, la fondazione di Forlì a inizio 2018 ha ceduto l'ultimo pezzo della conferitaria cassa dei risparmi di Forlì e della Romagna che lunedì di questa settimana si è fusa definitivamente all'interno di Intesa San Paolo. Quindi i cambiamenti sono avvenuti in quel momento. Abbiamo ancora una porzione liquida, ma siamo veramente molto rettentivi nell'impiegarla, è estremamente, estremamente prudente. Ma la direzione va sicuramente nella decorrelazione e nel perseguire strumenti, eventualmente anche i liquidi, perché il tabù dell'illiquidità l'abbiamo sfondato già da un anno, per cercare di avere qualche cosa che contro il bilancio mercati che difficilmente darà delle grandi soddisfazioni, a mio punto di vista e per base a quello che abbiamo sentito, almeno per un po' di tempo. Grazie mille. Camino, non so se vuoi aggiungere qualcosa sul lato della vostra piattaforma, della vostra soluzione di fund hosting e anche a te chiedo se hai qualche indicazione su 2019, a livello di nuovi investimenti, di nuova classe class, di liquidi. Allora, per quanto riguarda la soluzione già adottata, abbiamo concluso questo processo proprio nel punto di vista decisionale proprio nel mese di 90, quindi poco fa, pochi giorni fa. E quindi partiremo, partiremo veramente a breve. Ma aggiungerei magari qualche vantaggio, perché uno, diciamo, degli elementi, oltre a quelli già indicati, è sicuramente un evidente alleggerimento dal punto di vista di alcune attività e delle strutture interne. mi riferisco tanto alla parte di stessa gestione del patrimonio, ma anche a tutta la parte di amministrazione e contabilizzazione delle operazioni, nonché a tutta quella parte che negli ultimi anni cominciano ad avere un peso sempre più importante che riguarda tutta la regolamentazione e l'aggiornamento dei documenti fin dalla matrima, dalla Farta, del Vesivo e altri. Dico questo anche perché chiaramente le strutture delle fondazioni normalmente non sono, anche in alcuni casi, già non nate per rispondere a questo tipo di esigenze. quindi c'è anche una riduzione di quelli che sono banalmente anche solo i rischi operativi, da questo punto di vista. In più, un altro, diciamo, elemento che sembrerà molto, diciamo, banale, ma in realtà è veramente immediato, è il tema di vedere tutto all'interno di un unico nano. Cioè, in anni magari come questo, in cui si costruisce un portafoglio diversificato, quindi con dentro diverse strategie, mercati, asset class, volume e altro, l'idea di, lo dimostra magari chi legge, magari talmente solo il bilancio, con la diversificazione magari di tutti gli strumenti. Vedere risultati particolarmente diversi è un qualcosa che, come dire a volte, non rende già la vita. non rende immediata, non dà possibilità di avere in maniera, diciamo, immediata quello che è il risultato della gestione del patrimonio. Avere una soluzione invece che, di fatto, va a inglobare tutti gli strumenti sui quali il patrimonio, diciamo, vari strumenti, ma anche di avere immediatamente la percezione di quello che è il risultato dell'andamento del portafoglio. Oltre a tutta la parte dei rischi, diciamo, dei presidi di governance, ovviamente un punto che è stato fatto presente prima è quello della gestione dei flussi di cassa, che sicuramente in questo modo viene in maniera molto più, diciamo, puntuale rispondente a quelle che sono le esigenze effettive della fondazione e non mi sentirei, diciamo, di aggiungere altro per quanto riguarda, diciamo, la soluzione dettata. Per quanto riguarda 2019 direi, beh, sicuramente da un lato grande attenzione e interesse su questa soluzione per verificare un po' l'andamento e effettivamente credo che sarà la vita di tutti i giorni, diciamo. Avete deciso più o meno quanto sarà montare di questo veicolo? Cosa state spostando? Allora, sì, nel senso che attendere sarà, chiaramente non avverrà, non verrà spostato tutto inizialmente perché noi siamo ancora in un percorso di crescita degli investimenti del nostro patrimonio e quindi abbiamo ancora una quantità di liquidità che, diciamo, è chiaramente importante. Noi, diciamo, a Tegra stiamo parlando di una soluzione che dovrebbe essere grande tra, diciamo, tra i 6-700 milioni di euro. Quindi, da questo punto di vista, mi allaccio e condivido chiaramente tutti i discorsi che sono stati fatti anche in termini di costi e costi apportati a quelli che sono quali che mi sono affidato, assolutamente. Inoltre, ecco, per quanto dicevo, nel 2019, sicuramente c'è grande attenzione, sicuramente alla modalità di gestione di questa soluzione e anche noi ci aspettiamo, come diceva anche poco fa, qualcosa che effettivamente dimostri l'efficienza anche in termini di rapporto al rendimento obiettivo rischio nella gestione di tutti i giorni. Quindi, questo assolutamente è qualcosa che ci aspettiamo. E poi, invece, per quanto riguarda l'attività di gestione del 2019, sicuramente è un utilizzo ancora importante, anche se non nella stessa dimensione, probabilmente della liquidità, anche per la possibilità, diciamo, di quella che è ormai qualcosa che si sta avvenendo da questa propria parte, quindi il momento della volatilità, che non è la possibilità di riuscire a avere dei momenti di ingresso anche più favorevoli sul mercato da un punto di vista, diciamo, strategico. Però questa, diciamo, è un'attività, per l'appunto, che, diciamo, faremo e che è dedicata anche al gestore del comparto. E dall'altro lato, invece, in qualche modo un lavoro di gestione di quella che sarà la partecipazione dell'esamparo, quindi soluzione di enhancement sulla conferità. dell'Italia. Grazie mille. Concludiamo con Carlo. Qualche, nel tuo caso, prospettiva futura? Volete stare concentrati su questi strumenti indicati? Oppure avete in testa anche nuovi progetti di gestione indicata? Se ci puoi dire qualcosa di più anche sul mercato 2019? Sicuramente, diciamo, come hanno detto anche i colleghi, che la curva di evoluzione e di maturazione di questi strumenti non è ancora completata. Cioè, siamo partiti, diciamo così, un anno e mezzo, un anno e mezzo e due dal setup, quindi, come dire, non è che vi aspetto, diciamo, di fare delle manovre troppo, troppo aggressive. Nell'aspetto, soprattutto, di far crescere la dimensione per quanto riguarda il comparto ISG della piattaforma fondazione. Per fare questo, naturalmente, ho bisogno di alcune precondizioni. Una è che, diciamo, la renditività dell'anno sia in grado di produrre sufficiente liquidità per conferire la liquidità o altri asset che abbiamo in questo comparto e trasformarlo in tutti gli ESG. Per capirci, noi ancora oggi, noi quest'anno, diciamo, che si chiude, abbiamo avuto, dividendo di cassa, quasi il 60% della nostra renditività. Le banche, nello scorso, avendo fatto tutto un lavoro di polizia sugli EPL, avevano anche una capacità, diciamo, un renditore molto bassa, dovrebbero averla quest'anno al netto di quello che può essere, diciamo, poi, come dire, la linea finale rispetto al quadro contingente. Quindi, se questo è il quadro, noi continuiamo a sviluppare i progetti che abbiamo in campo. Quindi, sostanzialmente, quello che noi chiamiamo a trattare, che è il comparto esterno, rimarrebbe più o meno nella dimensione di 100-150 milioni. La crescita, invece, sulla piattaforma fondazione sarà costante e continua per quanto riguarda l'ISG. E poi, tutto questo è legato anche alla possibilità o meno di rendere in qualche modo più liquidabile la parte bancaria del nostro patrimonio. Questo è un tema, come dire, aperto da tempo, ma che ancora non ha trovato uno giusto asserragno. In termini prospettici direi che non sono stato sicuro che sia, dal mio punto di vista, opportuno, come dire, ibridare troppo il singolo comparto. Cioè, spenderei a non mettere un po' tutto dentro un unico comparto, e mi riferisco in particolare ai fondi chiusi e ai mission related, che sono gli altri due temi che ho, diciamo, in evidenza e su quali mi piacerebbe ragionare in futuro. I fondi chiusi, perché, appunto, ne abbiamo diversi interessanti, anche con capacità reddittuale, e che poi potrebbero magari essere, come dire... Cioè, su questi due temi si potrebbe fare un ragionamento anche con le altre fondazioni, nel senso che, per esempio, sui mission related noi abbiamo degli investimenti importanti sul venture capital, in proporzione, forse siamo la fondazione più esposta, o tra le più esposte, nel senso che noi abbiamo circa il 3% del nostro patrimonio investito in committed su fondi di venture capital, che è proprio mission related classico, e che quindi, diciamo, in una logica di collaborazione futura con le altre fondazioni, vedremo, per esempio, in un comparto fondazioni sui mission related. Cioè, anche lì la dimensione conta, no? Quindi, se dobbiamo fare la gestione di 3, 4, 5 fondi da soli, non conta. Se abbiamo, magari, un comparto più grande, quindi che mischia anche un po' di rischi, perché, magari, gestito bene, diciamo così, mi sembra una cosa anche segnalettica, che noi, in questo momento in cui tutti parlano di questo tema attuale, di innovazione, eccetera, potrebbe avere senso. Analogo ragionamento, per me, vale sul tema dei fondi chiusi, dove anche lì ci sono, come dire, cose di natura varia, e penso che una fondazione un po' grande, un po' grande come la cosa che ha alcune cose buone, di qualità, come può essere più intervi, di redditività, potrebbe fare un ragionamento sempre sostanzialmente all'interno delle piattaforme esistenti. Per capirci, sto dicendo che, anziché avere all'interno della piattaforma fondazione un comparto Sardegna, si potrebbe avere un comparto, ben giocabile da un comparto fondi chiusi, al quale contribuiscono e eventualmente partecipano altre fondazioni. Questo, diciamo così, nella notte, in questa cosa qui l'ho pensata, perché non è detto che i soci della piattaforma fondazione concorrono, mi permetto di essere un pochino a propositivo e vediamo come va finire. Ma potete ne sapere, è il classico tema delle soluzioni di sistema che si cerca sempre di riuscire a fare, due anni che se ne fa nel mondo delle case ibride, edza, poi siamo sull'investimento economiale, speriamo che si riesca a fare, sicuramente è un messaggio importante. Ma questo è un messaggio importante, magari una forza sfida che le fondazioni possano prendersi, soprattutto sui mercati liquidi e sicuramente sui visibili. Carmi, vorrei raggiungere? Volevo solo aggiungere che per il 2019 l'altro nostro grande impegno che abbiamo iniziato proprio quest'anno a proposito di investimenti di liquidi è proprio il tema di proseguire questo percorso su tutta la parte di alternativi, quindi mi riferisco sia da Tark, di Edge, da Ravatello e da Ravadeb. Quest'anno abbiamo già veramente avviato un percorso importante con il nostro consulente, che è già solo senza, quindi è sicuramente il piano di lavoro per i prossimi anni su quali inizialmente ci concentrano. Perfetto. Io ti...